17. C'è un goffer nella buca! Farneticò Poopo. Buon Dio! Abbiamo fatto una brutta fine! Josh Hutchins non aveva idea di che ore fossero o da quanto tempo si trovavano lì. Aveva dormito molto e fatto sogni terribili su Rose e sui ragazzi che scappavano davanti a un tornado di fuoco. Fu sorpreso di riuscire ancora a respirare. L'aria era pesante, ma sembrava andare bene. Josh si aspettava che presto avrebbe chiuso gli occhi e non si sarebbe più svegliato. Il dolore delle sue ustioni era sopportabile fin tanto che restava immobile. Restò disteso ascoltando il vecchio blatterare e Josh pensò che forse soffocare non sarebbe stato poi un modo così brutto per morire. Forse era solo come avere il singhiozzo prima di andare a dormire e non ti rendevi davvero conto che i tuoi polmoni stavano assimando in cerca di ossigeno. La cosa che gli dispiaceva di più era la bambina. È così giovane, pensò. Non ha avuto nemmeno una possibilità di crescere. Beh, decise. Adesso torno a dormire. Forse sarebbe stata l'ultima volta. Pensò alla gente nell'arena del wrestling a Concordia e si chiese quanti di loro fossero morti o stessero morendo in quel momento. Povero Johnny Lee Richwine. Il giorno prima la gamba rotta e il giorno dopo questo. Non è giusto. Non è per niente giusto. Qualcosa gli tirò la camicia. Il movimento scatenò piccole fitte di dolore nei suoi nervi. «Signore», disse Swan. Lo aveva sentito respirare ed era strisciata fino a lui nel buio. «Mi puoi sentire, signore?» Gli tirò di nuovo la camicia per buona misura. «Sì», rispose lui. «Posso sentirti. Che succede?» «Mia mamma sta male. Puoi aiutarla?» Josh si tirò su. «Cosa che non va?» «Sta respirando in modo strano. Per favore, vieni ad aiutarla.» La voce della bambina era stanca, ma non stava cedendo alle lacrime. «Una bambina forte», pensò Josh. «Va bene, prendimi la mano e portami da lei.» Tese la mano e dopo qualche secondo lei la trovò nel buio e strinse tre dita nella sua. Swan lo condusse, entrambi strisciando, attraverso il seminterrato, verso il punto in cui la madre giaceva sul terreno. Swan stava dormendo, rannicchiata contro sua madre, quando era stata svegliata da un rumore simile allo stridore di un cardine arrugginito. Il corpo di sua madre era caldo e umido, ma Darlene stava tremando. «Mamma», sussurrò Swan. «Mamma, ho portato il gigante per aiutarti.» «Ho solo bisogno di riposare, tesoro.» La voce era sonnolenta. «Stò bene, non preoccuparti per me.» «Hai dolore da qualche parte?» le chiese Josh. «Per la miseria che domanda! Ma dolore ovunque, Cristo! Non so cosa mi abbia preso. Mi sentivo bene fino a poco fa, come se avessi solo una scottatura, ma... merda! Ho avuto scottature peggiori di questa!» Deglutì a fatica. «Di certo mi piacerebbe una birra adesso.» «Potrebbe esserci qualcosa da bere quaggiù.» Josh iniziò a cercare, scoprendo altri barattoli ammaccati. Senza una luce, comunque, non poteva dire cosa contenevano. Anche lui era assetato e affamato, e sapeva che doveva essere lo stesso per la bambina. Di sicuro a poco avrebbe fatto bene dell'acqua. Trovò un barattolo di qualcosa che si era spaccato e stava perdendo del liquido, e lo assaggiò. Sciroppo di pesca. Un barattolo di pesche. Ecco, tenne il barattolo alle labbra della donna perché bevesse. Darlene beve un sorso rumoroso, e poi lo spinse via debolmente. «Stai cercando di avvelenarmi! Ho detto che mi serve una birra.» «Mi spiace, è il meglio che posso fare.» Diede il barattolo a Suon e le disse di bere. «Quando verranno a tirarci fuori da questa bucca di merda?» chiese Darlene. «Non lo so, forse...» fece una pausa. «Forse è presto.» «Gesù, mi sento come se un lato di me stesse cuocendo e l'altro fosse in un congelatore. Mi ha colpito all'improvviso.» «Te la caverai», disse Josh. Era ridicolo, ma non sapeva cos'altro dire. Sentì che la bambina era vicina, silenziosa e in ascolto. «Lei sa», pensò. «Riposati e riprenderai le forze.» «Vedi, Suon? Te lo dicevo che sarei stata bene.» Josh non poteva fare altro. Prese il barattolo di pesche da Suon e strisciò fino al punto in cui Popo giaceva delirante. «Abbiamo fatto una brutta fine», farfugliò al vecchio. «Oh, signore, hai trovato la chiave. E adesso come farò ad accendere un furgone senza chiave?» Josh mise una mano sotto la testa del vecchio, la sollevò e gli appoggiò alle labbra il barattolo spaccato. Popo stava tremando ed era arso dalla febbre contemporaneamente. «Bevi», disse Josh, e l'altro ubbidì come un neonato con il biberon. «Signore, noi ce la faremo uscire?» Josh non si era accorto che la bambina era vicina. La sua voce era ancora calma e stava sussurrando affinché la madre non sentisse. «Certo», rispose lui. La bambina restò in silenzio e di nuovo Josh ebbe la sensazione che anche al buio lei avesse smascherato la sua bugia. «Non lo so», si corresse. «Forse, forse no, dipende». «Dipende da cosa?» «Non ha intenzione di mollare, eh?» pensò. «Credo che dipenda da quello che è rimasto là fuori. Hai capito cos'è successo?» «Qualcosa è esploso», rispose la bambina. «Esatto, ma potrebbero essere esplosi anche molti altri posti. Intere città potrebbero esserci...» Esitò. «Vai avanti e dillo. Fa lo stesso se lo dici. Potrebbero esserci milioni di morti o intrappolati proprio come noi, per cui potrebbe non essere rimasto nessuno che ci possa tirare fuori». Lei restò zitta per qualche istante, poi rispose. «Questo non è quello che ho chiesto. Ho chiesto, noi ce la faremo a uscire?» Josh si rese conto che stava chiedendo se loro stessi avrebbero provato a liberarsi, invece di aspettare che qualcun altro venisse ad aiutarli. «Beh», disse lui, «se avessimo una ruspa a portata di mano allora direi di sì. Altrimenti credo che non andremo da nessuna parte nel prossimo futuro». «Mia mamma sta davvero male», disse Swan e questa volta la sua voce si spezzò. «Ho paura». «Ce l'ho anch'io», ammise Josh. La bambina si inghiozzò soltanto una volta e poi si fermò come se si fosse controllata con un'enorme forza di volontà. Josh allungò una mano e trovò il suo braccio. Sulla sua pelle esplosero delle vesciche. L'uomo trassalì e ritrasse la mano. «E che mi dici di te?», le chiese. «Hai dolore?» «Mi fa male la pelle. Sembrano tanti aghi e puntine. E mi fa male la pancia. Ho dovuto vomitare qualche tempo fa, ma l'ho fatto nell'angolo». «Sì, anch'io non mi sento tanto bene». Sentiva anche il bisogno impellente di urinare e avrebbe dovuto inventarsi un sistema di sanitari di fortuna. Avevano un sacco di cibo in scatola e succhi di frutta e non si poteva dire che altro ci fosse, sepolto nel terreno. «Basta», pensò, perché si era permesso un barlume di speranza. «L'aria finirà presto. Non c'è modo per sopravvivere qua sotto». Ma sapeva anche che si trovavano nell'unico posto che avrebbe potuto ripararli dall'esplosione. Con tutta quella terra sopra di loro, le radiazioni avrebbero potuto non passare. Josh era stanco e gli facevano male le ossa, ma non sentì più il bisogno di distendersi e morire. Se l'avesse fatto, pensò, anche il destino della bambina sarebbe stato deciso. Ma se avesse combattuto la stanchezza e si fosse messo a organizzare i barattoli di cibo, avrebbe potuto tenerli tutti in vita per… «Quanto?», si chiese. «Un altro giorno, tre giorni in più, una settimana». «Quanti anni hai?», le chiese. «Nove», rispose lei. «Nove», ripetè lui piano e scosse la testa. Rabbia e pietà lottarono nella sua anima. Una bambina di nove anni doveva giocare alla luce del sole. Una bambina di nove anni non doveva trovarsi in un seminterrato con un piede nella fossa. Non era giusto, all'inferno, non era giusto!» «Come ti chiami?», passò un minuto prima che ritrovasse la voce. «Josh, e tu ti chiami Swan?» «Su, Wanda, ma mia mamma mi chiama Swan. Come hai fatto a diventare un gigante?» aveva le lacrime agli occhi, ma sorriseo ugualmente. «Immagino sia perché ho mangiato il pane di mais di mia mamma quando avevo la tua età». «Il pane di mais ti ha reso un gigante?» «Beh, sono sempre stato grosso. Giocavo a football, prima alla Auburn University e poi per i New Orleans Saints». «Lo fai ancora?» «No, ero un... ero un lottatore», disse. «Lotta professionistica. E io ero quello cattivo». «Oh!» Swan pensò alla cosa. Ricordava che uno dei suoi molti zii, lo zio Chuck, andava a vedere gli incontri di lotta a Wichita e li guardava anche in tv. «Ti piaceva? Essere quello cattivo, intendo». «In realtà è una specie di gioco. Facevo solo finta di essere cattivo. Non so se mi piacesse o meno. È solo qualcosa che ho iniziato a fare». «C'è un gopher nella buca», disse Popo. «Buondio! Guarda come corre!» «Perché continua a parlare di un gopher?» chiese Swan. «È ferito, non sa cosa dice». Popo continuò a blatterare su delle ciabatte da trovare e qualcosa sulle coltivazioni che hanno bisogno di pioggia. Poi ricadde nel silenzio. Dal corpo del vecchio il calore emanava come da un forno e Josh sapeva che non avrebbe esistito molto a lungo ancora. Dio solo sapeva che cosa avesse causato dentro la sua testa l'aver guardato quell'esplosione. «Mamma diceva che stavamo andando a Blakeman», disse Swan, distogliendo l'attenzione dal vecchio. Sapeva che stava morendo. «Diceva che stavamo andando a casa. Tu dove stavi andando?» «A Garden City. Avevo un incontro di lotta lì». «È casa tua?» «No, casa mia in Alabama. Molto, molto lontano da qui». «Mamma diceva che saremmo andate a trovare mio nonno. Vive a Blakeman. La tua famiglia vive in Alabama?» L'uomo pensò a Rose e ai suoi due figli, ma facevano parte della vita di qualcun altro adesso, sempre che fossero ancora vivi, in effetti. «Io non ce l'ho una famiglia», rispose. «Non hai nessuno che ti vuole bene?» gli chiese Swan. «No», disse lui. «Non credo». Sentì gemere Darlene e disse «Meglio che ti occupi di tua madre. Che dici?» «Sì, signore». Swan iniziò ad allontanarsi, ma poi si voltò e guardò nel buio, verso il punto in cui si trovava il gigante nero. «Sapevo che stava per accadere qualcosa di terribile», disse. «Lo sapevo fin dalla notte in cui abbiamo lasciato il camper di zio Tommy. Ho provato a dirlo alla mamma, ma non ha capito». «Come facevi a saperlo?» «Me l'hanno detto le luciole», disse lei. «L'ho visto nelle loro luci». «Suanda», chiamò debolmente Darlene. «Swan, dove sei?» «Sono qui, mamma», rispose Swan e strisciò accanto a lei. «Glielo avevano detto le luciole», pensò Josh. «Bene, almeno la bambina aveva una forte immaginazione. Quella era una cosa buona. A volte l'immaginazione poteva essere un buon posto in cui rifugiarsi quando le cose si facevano pesanti. Poi però ricordò improvvisamente la nuvola di locuste che era volata attraverso la sua auto. Negli ultimi due o tre giorni hanno continuato a volare via dai campi a migliaia», gli aveva detto Popo. «Piuttosto strano». Le locuste sapevano che in quei campi di Gran Turco sarebbe accaduto qualcosa. Josh si meravigliò. Erano state in grado di percepire il disastro, forse di sentirne l'odore nel vento o nella terra stessa. Rivolse l'attenzione a questioni più importanti. Prima di tutto doveva trovare un angolo per fare la pipì, prima che gli esplodesse la vescica. Non aveva mai dovuto accovacciarsi e fare la pipì contemporaneamente, ma se l'aria era buona e loro avessero resistito per un po', qualcosa avrebbe dovuto inventarsi per i loro escrementi. Non gli piaceva l'idea di strisciare nei suoi e ancora meno in quelli degli altri. Il pavimento era di cemento, ma vi si erano aperte grandi crepe durante le scosse. Ricordò di aver toccato una zappa tra le macerie, che avrebbe potuto essere utile per scavare una latrina. E avrebbe perlustrato il seminterrato da un capo all'altro, su mani e ginocchia, raccogliendo tutti i barattoli e ogni altra cosa che avrebbe trovato. Ovviamente avevano molto cibo e i barattoli avrebbero contenuto abbastanza acqua e succhi per sostentarli per un po'. Era la luce che voleva, più di ogni altra cosa. E non aveva mai immaginato quanto gli sarebbe potuta mancare l'elettricità. Strisciò in un angolo lontano per liberarsi. Passerà un bel po' di tempo prima del prossimo bagno, pensò. E nel prossimo futuro non ti serviranno di sicuro degli occhiali da sole. Trassalì. L'urina che usciva da lui bruciava come acido di batteria. «Ma sono vivo», rassicurò se stesso. «Può non esserci più un granché per cui vivere, ma sono vivo. Domani potrei essere morto, ma oggi sono vivo e mi sto pisciando sulle ginocchia». E per la prima volta dall'esplosione permise a se stesso di sognare che forse in qualche modo avrebbe potuto vivere per vedere di nuovo il mondo esterno. Grazie. 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 Grazie.